Sediti con noi. Vieni, meriti tutta la tua sobrietà. Sì, certo, me si vede, no? In realtà è Giulia Delelli. Sono parrucchiere. Ah, ma siete uguali, però. Solo che tu hai la barba, però vi assomigliate molto. Senti, io ho portato i palloncini perché volevo fare anche a te il fly to sky, sei d'accordo? Cioè quello con i palloncini. Ma no. Poi dopo... Ci parliamo un attimo, eh, camerina. Vabbè, non è da tutti i giorni di farsi fare... Ma senti, ma perché fai questo trattamento con le palle? Questo praticamente serve per colorare i capelli con diverse nuance, così l'una tra l'altra non si colora. Allora, Federico viaggia verso il milione di follower e sua figlia di un anno, Sofì Mael, ha già il suo profilo Instagram con 37.000 follower. Sofì Mael. Chiamiamo l'assistente sociale. Povera bambina. Paris Hilton l'ha contattata per farsi i capelli. Senti, approfittiamo della tua esperienza. Sei qua. Guarda che onda che ha. È di zucchero filato. Io secondo te... Come sto? Invecchia un po' il racconto? No, assolutamente. Io sei sempre molto chic. Molto chic. È bella, è bella pure così bioonda. Bellissima. È vero, soprattutto con questa ricrescita. Vabbè, di ricrescita però potremmo farla. Eh, ho capito, amore. Potrei passare prima il pallone. Amore, Federico, fashion, eh. C'è altre tante cose da fare nella vita che mettermi i palloni nella testa, capisci? Tanta roba. No, volevamo approfittare della tua presenza qui, anche per farci dare qualche consiglio, oltre che a noi, poi naturalmente, quando vuoi approfittare... Il brivido dei palloncini bisogna provare. Io non insisto, eh. No, ma anzi, sono qui per questo, Luciana. Sono venuta apposta per farmi mettere dei palloncini in testa. Decidi tu, non voglio... Eh, no, dicevi. Perché cambia sempre un po' il discorso nel momento di mettere i palloncini. Eh, beh, no, ma lo capisco. Ma se vuoi mettere i palloncini... Proviamo, dai, possiamo fare? Ma certo. Mi sono salto, ormai dopo... Allora, mettiamone... Dai, mettiamo almeno due, va bene? Dai, solo due. Mettiamone due perché poi cambia molto, poi. Mettiamo uno di qua. Uno di qua. Beh, così provi il brivido comunque di sentire si volare. Sì, ma poi mi alzo in volo. Eh, ma posso fare una foto in Caluciana? Ma dai, bene. Volete farla anche voi, tanto? Io sono qua per farla capire. Con questo, con questo sicuro crescono i follower qui. Potiamo che ci sia anche il secondo. Stai benissimo. Ma questo fa bene i capelli? No, in realtà... Li mettiamo tutti e due allo stesso lato perché sennò sembra una corna, dai. Ma no, dai, che così c'è anche il libro della Delellis. E soprattutto per il tema. Ecco. Tu l'hai letto? E' il libro di Giulia Delellis? Sì, certo. Certo. Ok, dai, dai, ritagliamo, dai. Vi faccio una foto insieme un momento, così. Siete bellissimi.